Veronica Grieco si definisce carina, solare, simpatica e altruista. Il difetto del suo carattere è testata, vorrebbe essere un poco più alta. Nel mondo dello spettacolo vorrebbe fare la foto modella. La sua frase tipica per fare effetto è Carpe Diem. Si dà come voto, voto! Concorrente numero due! Rosamaria Scala si definisce aggressiva e il difetto suo è che è un po' gelosa. Non vorrebbe cambiare nulla del suo corpo, nello spettacolo vuole sfilare. La frase per fare effetto è Amo troppo la mia città. Si dà come voto, sei! Concorrente numero tre! Quattro! Rosa della Bella si definisce bella ed è come simpatica, sincera e intelligente. Il difetto è un po' testarda e permalosa. Non vorrebbe cambiare nulla del suo corpo, nello spettacolo vorrebbe sfilare. La sua frase è Nessuna la penso al momento. Il suo voto si dà un sette. Vuoto e vuoto da lì e non indietro al nome. Concorrente numero cinque! Raffaella Gervasio è umile, solare e sincera. Il suo difetto è un po' ritardataria. Non vorrebbe non dire nulla del suo corpo perché si si differenzia. Nel mondo è lo spettacolo dove parla modella, modella, bandini e presentatrice. La sua frase è La prevenza è soggettiva. Si dà otto. Concorrente numero sei! Giulia Valentino è altruista, sensibile e allegra. Il suo difetto è che un po' permalosa è lunatica. Vorrebbe cambiare del suo corpo il seno. Nello spettacolo interessata e aspira ad essere una modella. La frase per fare effetto è Campa Felice. Il voto che si dà è sette! E abbiamo la concorrente numero sette! Valeria Zullo è solare e dolce. Solo un po' testata e nel suo corpo non vorrebbe cambiare nulla. Nello spettacolo vorrebbe fare la foto modella. La sua frase è l'essenziale e invisibile agli occhi. Come voto si dà sei. Concorrente numero otto! Antonia Valentina è socievole, allegra e pimpante. Un po' permalosa e un po' fissata. Cosa cambrebbe nel suo corpo il lato B. Nello spettacolo vorrebbe essere una foto modella. La sua frase è sorride la vita e la vita ti sorride. Come voto si dà otto e mezzo. Concorrente numero nove! Vittoria Cantisa, divertente, delicata e indipendente. È un po' egoista e timida. E del suo corpo non cambierebbe nulla. Nello spettacolo vorrebbe fare la foto modella. Via! E la sua frase per migliorarsi è migliorare sempre. Come voto si dà dieci! Concorrente numero dieci! Ultima concorrente in gara! Larissa Tufano è sociale, docce e simpatica. Il suo difetto è che è un po' troppo sensibile. Non vorrebbe cambiare nulla del suo corpo. E nel mondo lo spettacolo sarà una foto modella. Non ha frasi per fare effetti. Il voto che si dà è... Lassoci di gara agli altri. Allora... La concorrente numero uno, numero tre, numero quattro. al tavolo della giuria. Grazie. Giratevi. Potete andare, grazie, con i concorrenti numero cinque, numero sei e numero sette. Potete girarvi? Potete andare, con i concorrenti numero otto, numero nove e numero dieci. Potete girare, grazie. Potete andare, grazie. Conosciamole meglio. Come ti chiami? Veronica. E basta. Veronica Grieco. Con che numero gareggi? Numero uno. Allora, nella vita cosa fai? Tre.